Ciao a tutti, sono Matteo da Cambiago, siamo arrivati alla quinta edizione delle novità settimanali. Visto che l'altra volta abbiamo parlato di 10 prodotti di antiquariato, oggi mi sembra giusto parlare di modernariato. 10 prodotti più 4 sorprese finali direttamente dall'Oriente. Allora, una piccola precisazione prima di iniziare. Tutti i prodotti che vedete nei video sono acquistabili, quindi sono già... Mi contattate, adesso vi lascio i contatti, e potete avere tutte le informazioni e già acquistarli. 351-690-4263 o assistenzaclientichiosceladimanimano.it per mettervi in contatto con me. Vi ricordo anche che questa settimana, ovvero domani dopo domani, sabato e domenica, dalle 10 alle 19 con l'orario continuato, ci sono i magazzini aperti qui a Cambiago. Vi aspettiamo e dopo facciamo un velocissimo tour del magazzino. Partiamo allora subito a bomba con questo bellissimo sideboard. Produzione italiana, anni 60, con antiabattente. Adesso vi mostriamo gli interni, che sono molto carini, anche con questi dei cassettini. E' impiallacciato con legno esotico, molto capiente e le sue dimensioni sono 75 di altezza, 249 di larghezza e 47 di profondità. Lo proponiamo a un prezzo di 1900 euro. Giada mi ha già tirato le orecchie perché non mi ha detto una cosa importantissima, di iscrivervi al nostro canale e di rimettere un bel like se vi piace questo video. Cosa vi facciamo vedere ora? Questa sedia, che fa parte di un gruppo di sei, è una sedia anni 50, di produzione italiana, in legno di faggio tinto, con imbottitura molle e rivestimento in similpelle. Vi ricordo, vedete questa è in condizioni un po' da revisionare, diciamo, che potete utilizzare i nostri laboratori di restauro, vi possiamo fornire un preventivo, sia per la parte linea, che per la parte di imbottitura e tessuto, scegliendo i tessuti anche direttamente qui da noi. Ce la teniamo questa sedia perché ci servirà per un successivo articolo, che vi faremo vedere dopo. Già che siamo qua, vi diamo questo tocco di luce con due belle lampade da terra, anni 40 e successivamente anni 60-70. Partiamo con questa, ve l'accendo, è molto bella accesa, eccola. Allora, dicevamo, una lampada anni 40, molto elegante, funzionante, come potete vedere, ottone, tessuto plastificato per il paralume e vetro soffiato. Vi faccio notare, adesso la Giada ci farà vedere, che ha una piccola rottura su uno dei vetrini. Questo per dire che noi cerchiamo, nelle fotografie che trovate online, di indicare sempre, appunto, piccole rotture o mancanze, così da poter procedere all'acquisto in modo un pochino più sereno, conoscendo le reali condizioni del prodotto. Prezzo e misure, prima di passare all'altra lampada da terra, 187 cm di altezza e 50 il diametro del paralume, 750 euro. Qui a fianco abbiamo la lampada di cui vi parlavo, che è una lampada anni 60-70, da terra con tre punti luce e diffusori orientabili. La base è in marmo e il resto è in metallo cromato. La accendiamo, eccola qua, prima di dirvi che l'altezza è 77 cm, la larghezza è 160 e la profondità di 80. Il suo prezzo è 970 euro, secondo me è un pezzo ideale per il vostro salotto. Benvenuti a questa edizione speciale delle novità settimanali. Allora, vi presentiamo questo tavolo anni 60 italiano, con struttura in legno di faggio tinto e piano in legno ricoperto di formica, effetto legno la formica. Le sue misure sono 77 cm di altezza, 161 di larghezza e 81 di profondità e il suo prezzo è 740 euro. Ne approfitto per una domanda che ci fate in tanti. Il costo di spedizione che trovate online. Ad esempio, per questo tavolo, 740 euro più 150 euro di spedizione, trovate un prezzo già finito sul sito di 890 euro. Questo prezzo vale che voi abitiate a Cuneo, che abitate a Trieste o a Lecce. Quindi tutta Italia, isole escluse, ha validità questo 150 euro a bordo strada. Ovviamente si può concordare una consegna al piano e in caso di ritiro, invece, il prezzo è quello che trovate nell'articolo, ovvero i 740 euro che vi ho detto. Finisce questa edizione speciale, ci vediamo alla prossima. Nel prossimo articolo, devo confessarvi, che è il mio preferito e non perché, guardate qua, è un fantastico contenitore di birre, che non guasta, ma perché secondo me è un pezzo davvero particolare. Adesso ve lo facciamo vedere. Nel frattempo vi dico che è un tavolino anni 70 italiano, un tavolino da centro, con base in legno laccato, ricoperto in pelle. Il piano è in vetro, con foro centrale, per le birre ma anche per qualcos'altro. Le dimensioni sono 37 di altezza, 109 di larghezza e 109 di profondità. Prezzo veramente interessante, 260 euro. Dopo qualche birretta, un po' di relax, su questo divanetto, anni 60, di produzione italiana. È imbottito in espanso, con rivestimento in tessuto, e gambe in legno, con puntale in ottone. L'abbiamo trovato, abbiamo acquistato già restaurato, quindi ovviamente è in discrete condizioni, ma si può eventualmente, come vi dicevo, fare, rifare a nuovo, con un tessuto di vostro gradimento. L'altezza è di 88 centimetri, la larghezza di 148 e la profondità di 77 centimetri. L'altezza della seduta, 40 centimetri, e il suo prezzo è 980 euro. Rimaniamo un po' comodi, perché dopo c'è un fantastico tour del magazzino, quindi devo un attimo riposare. Dove lo faccio? Su queste due poltrone argentine, anni 50, con imbottitura molle, e rivestimento in sky. Il legno è faggio tinto e le misure sono 90 centimetri di altezza, 61 di larghezza e 81 di profondità. L'altezza della seduta è 42 centimetri e il loro prezzo è di 1300 euro. No, aspetta Giada, mancano dei pezzi. Eccola qua. La ricomponiamo. Adesso avete di fronte una bellissima poltrona anni 60, completamente restaurata, quindi pronta da mettere in casa, con tubulare in metallo smaltato e puntali in ottone, la seduta e lo schienale imbottiti in espanso con rivestimento in tessuto. Le misure sono 88 di altezza, 54 di larghezza e 80 di profondità e il suo prezzo è di 680 euro. Qui abbiamo un mobile molto raro. Eccolo qua. Mobile Playbox Playbox di Giotto Stoppino Ludovico Acerbis per Acerbis anni 70-80. Adesso inquadriamo tutto, ha un sacco di cassettini, vani. Facciamo vedere velocemente. Qua si apre senza uccidere Giada. Guardate che meraviglia. Poi vi do qualche informazione. Dunque, vi dicevo, anni 70-80, mobile contenitore per impianto audio e video, allestito internamente con ripiani e cassetti, in legno laccato e vetro trasparente. Le sue misure sono 152 di altezza, 151 di larghezza e 50 di profondità. Lo proponiamo a un prezzo di 3200 euro. Come promesso, una serie di oggetti che arrivano dall'Oriente. Visto che a Giada piace tanto il Giappone, noi andiamo in Cina e in Birmania. Cosa ne pensi, Giada? Partiamo da questa coppia di vasi in porcellana a sezione quadrata. Su ogni lato troviamo una delicata decorazione incisa con piante in fiore, incorniciata da una fascia continua a ricami vegetali. Siamo nell'epoca Qing, quindi XIX secolo, e le misure sono 29 centimetri di altezza, 10 di profondità e 10 di larghezza. Il loro costo è di 1050 euro. Passiamo subito dopo alla nostra figura di Budai seduto su un trono di loto. È in gress, dipinto a smalti Sankai su base in legno. L'epoca è l'epoca Ming, quindi parliamo dal 1368 al 1644. Pensate quanti anni ha questo oggetto. Viene dalla Cina, l'altezza è 35, la larghezza 19 e la profondità 13. Il suo prezzo è di 400 euro. Poi la nostra coppia di figure birmane in legno raffiguranti due nut degli spiriti dei luoghi. Intagliati in legno massello con sottile e preziose decorazioni sulle vesti. Guardate che qualità. Siamo nei primi del Novecento, l'altezza è 76 cm, la larghezza 20 e la profondità 16 e il loro prezzo è di 880 euro. Per finire due figure di guerrieri sempre in gress riccamente modellati e dipinti smalti Sankai. Siamo in Cina e anche qui nell'epoca Ming. L'altezza è 62 quindi quello più alto, la larghezza 30 e la profondità 18. Il loro prezzo è di 1100 euro. Approfittiamo delle temperature un pochino più umiti per presentarvi la di mano in mano. Quando arrivo in via Castellazzotto cosa vedo? Questo. Entriamo che vi faccio fare un giretto. Allora, questa è la parte di esterno dove trovate tutto il mercatino dell'usato mentre proseguendo di qui si entra nel negozio. Solitamente qua si chiude la parte di negozio e quindi troverete questa. Questa parte solitamente è chiusa e quindi non si può passare. Non so come si chiude. Mentre in occasione dei magazzini aperti quindi domani e dopo domani sabato e domenica dalle 10 alle 19 qui a Cambiago questo non ci sarà e quindi possiamo andare a vedere cosa potete vedere tranquillamente e liberamente. Venite con me. Ci vediamo settimana prossima e vi aspettiamo domani e dopo domani per i magazzini aperti. Ciao a tutti!